Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, signori, oggi video aggiornamento per quanto riguarda il calendario delle uscite cinematografiche dei Marvel Studios, perché durante il weekend c'è stato un aggiornamento abbastanza importante per quanto riguarda le date fissate, soprattutto per il 2026 e il 2027, ne sono state aggiunte di nuove, ne è stata tolta una, quindi direi di fare un recappone generale e agganciarci anche a un'altra notizia che è uscita in questi giorni. E direi di cominciare subito dalla notizia, perché ci servirà un po' per capire quale potrebbe essere l'andamento del 2026 e del 2027 per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, che arriva dal buon Daniel R.P.K., che ha dichiarato che, secondo un suo rumor, tutti i film che usciranno tra Avengers Doomsday e Avengers Secret Wars saranno ambientati a Battleworld. Battleworld, ve l'avevo già spiegato in altre occasioni, è il mondo come viene riplasmato da destino durante la run di Secret Wars. In poche parole, preserva pezzi dei vari universi, li unisce su questa terra che lui crea a suo piacimento e ci sono appunto delle regioni comandate, per esempio, dagli Hulk, le regioni comandate dai Venom, c'è tutta la regione oltre il muro dove ci sono tutti i personaggi provenienti dall'universo di Marvel Zombie, Anni-Liation e così via. E quindi potrebbero fare appunto delle storie one-shot ambientate appunto su Battleworld. L'idea mi piace parecchio, se devo essere sincero, potrebbero fare vedere prodotti molto interessanti. A me per esempio piacerebbe tantissimo vedere un adattamento di Planet Hulk, quello di Battleworld, che è ambientato a Greenland, che è la regione dominata dagli Hulk, ma soprattutto un adattamento di Tors. Se il prossimo TOR 5 dovesse essere un adattamento di questa run, per me sarebbe una figata, perché i TOR all'interno di Battleworld sono stati istituiti a forza di pulizia cosmica da destino e questa storia è un poliziesco. Abbiamo questa squadra di TOR, dove abbiamo il TOR di Ultimate, Beta Rebill, la potente TOR, il TOR figlio di Odino, così come viene chiamato, che indaga sull'omicidio di un altro TOR. Abbiamo anche tipo TOR Groot, questa mi è piaciuta tantissimo. Forse è la storia che preferisco di più di tutte quelle ambientate a Battleworld. Ma comunque vediamo, perché tra meno di una settimana partirà il D23 e dovrebbe focalizzarsi teoricamente di più sulle serie TV Marvel su Disney+, piuttosto che con le uscite cinematografiche, ma in ogni caso comunque il calendario è abbastanza scoperto per quanto riguarda il 2026 e il 2027. E le altre finestre dove potrebbero annunciare qualcosa sono solamente il D23 brasiliano, che si terrà a novembre, il New York Comic Con a ottobre o il Cinema Con in Brasile, anche se non penso perché non hanno mai annunciato niente di grosso lì. Anche se no, poi si passa direttamente al prossimo San Diego Comic Con a luglio 2025, ma con le prime uscite a febbraio 2026 secondo me sono troppo troppo a ridosso con l'uscita al cinema. Ma comunque andiamo a vedere il calendario. Allora direi di partire con le cose confermate, ovvero tutte quelle nel 2025. Abbiamo il 12 febbraio in Italia Captain America Brave New World, lo attendo tantissimo, il primo trailer mi ha gasato parecchio. Poi si passa al 2 maggio 2025 con Thunderbolts, con l'asterisco. Sono molto curioso anche di questo film, soprattutto di vedere Sentry, dato che è il segreto di Pulcinella che alleggia intorno a questa pellicola, ma indubbiamente il film che attendo di più per il 2025 in casa, Marvel, è Fantastic Four First Steps, che è stato rintitolato in questo sottotitolo durante il San Diego Comic Con. È uscito questo breve teaserino licato dal San Diego Comic Con che è stato pubblicato ovunque. L'abbiamo visto praticamente tutti e per me è una figata, nonostante le riprese fossero cominciate da pochissimi giorni. Quando si sono presentati il San Diego Comic Con, speriamo non ne svacchino, anche perché poi Fantastic Four è stato confermato da Kevin Feige durante il San Diego Comic Con e torneranno nei prossimi film degli Avengers e tra l'altro ci sarà l'introduzione sicuramente del destino di Robert Downey Jr. prima di Avengers Doomsday. L'idea che mi sono fatto è che verrà introdotto appunto nei Fantastic Four, magari nella post-credit, e loro verranno sconfitti da Galactus che divorerà il loro universo e Reed Richards per salvare tutti quanti li farà migrare sulla Terra se uno sei. Un po' come accadeva in Secret Wars, che stavano collassando gli universi, lui fa questa sorta di arca dove tenta di salvare tutti quanti, farà secondo me una cosa molto simile anche in Fantastic Four. E sarebbe anche figo vedere un altro film dove i buoni, gli eroi, non vincono alla fine, un po' come era successo solo forse in Infinity War. Poi abbiamo il 7 novembre 2025 Blade. È molto strano perché nell'aggiornamento che ha dato in questi giorni Disney e Marvel, Blade è ancora fissato al 7 novembre 2025. Per me lo rinvieranno, dato che comunque Kevin Feige aveva detto che probabilmente verrà rinviato, non era stato nominato neanche nei film in uscita nel 2025 al San Diego Comic-Con di qualche settimana fa, però al momento è lì, io ve lo riporto nella data dove Marvel e Disney per ora lo fissano. Passiamo poi al 2026. Abbiamo un film senza titolo in uscita il 13 febbraio 2026, Avengers Doomsday in uscita il primo maggio 2026, poi era presente una data, ovvero il 23 luglio 2026, che è stata cancellata dalle prossime uscite targate a Marvel Studios. 6 novembre 2026 è un altro film, Marvel Studios senza titolo. Passiamo poi direttamente al 7 maggio 2027 con Secret Wars e poi le due nuove date che sono state fissate sono 23 luglio 2027 e 5 novembre 2027. Diciamo che in casa Marvel le finestre di uscita ormai sono febbraio, maggio, luglio e novembre. In quei periodi lì hanno deciso di far uscire le loro pellicole. Ora, premettendo che secondo me da questo calendario mancano delle date, perché io dubito fortemente che tra Avengers Doomsday e tra Avengers Secret Wars facciano solamente un film della Marvel. Io mi aspetterei di vedere qualcos'altro, anche perché se appunto tutte le pellicole, come diceva Danny Repliquei, saranno ambientate a Battleworld o fanno un film solo intitolato Battleworld, oppure niente. E la data del 23 luglio, che era secondo me la data papabile di uscita di Spider-Man, non vorrei che l'abbiano tolta perché verrà annunciata poi da Sony. Quindi l'idea base che mi sono fatto in base a queste date qui, poi ovviamente come avete visto sul video del San Diego Comic Con le ho cannate quasi tutte, ma non si sa mai, è più o meno questa roba qui. Blade probabilmente verrà rinviato, non so perché non l'hanno confermato con il calendario di uscita, a meno che non facciano un miracolo nei prossimi mesi e partino in fretta e in furia, probabilmente verrà rinviato, non si sa a che data. Per me febbraio 2026 sarà la volta di Doctor Strange, perché comunque lui sta parlando delle incursioni come abbiamo visto nella post-credit e sicuramente al 99,9% uscirà questo film prima di Secret Wars. La data ho messo il 13 febbraio perché appunto prendo per buono quanto ha detto Daniel RpK e quindi il film di novembre ambientato a Battleworld. Ora io ho rimesso Spider-Man a luglio 2026 perché appunto credo che venga annunciato da Sony, però se effettivamente tutto quel periodo lì che intercorre tra Doomsday, Secret Wars e Battleworld non so neanche quanto avrebbe senso fare uno Spider-Man 4 ambientato a Battleworld. Io non lo voglio vedere, io voglio vedere Spider-Man che sta tranquillo a New York, che combatte contro Kingpin, che è braccato dalla polizia con J. Jonah Jameson, eccetera. Ne voglio uno abbastanza tranquillo di Spider-Man, l'abbiamo visto sempre o in gita, o in gita in Europa, o con il multiverso. Adesso vorrei vedere un film con Tom Holland tranquillo, con la New York, i criminali normali e così via. Come vi dicevo ho messo un Battleworld generale per quanto riguarda 6 novembre 2026 e le altre due date ho piazzato Shangri-Chi e poi novembre 2027 avrebbe senso fare gli Young Avengers. Siamo tanto vicini a Avengers Secret Wars, ma effettivamente comunque i tasselli li stanno mettendo da diverso tempo e Young Avengers non avrà sicuramente la portata del film sugli Avengers. Premetto però che secondo me, come vi dicevo, mancano delle date, perché manca uno slot per esempio di febbraio 2027 che sicuramente andranno a posizionare, manca il luglio 2026 che è stato tolto per non so quale motivo, quindi non so se al D23 daranno qualche aggiornamento. L'altra opzione secondo me abbastanza papabile è questa qua, ovvero Strange è sempre uscita al 13 febbraio 2026. Spider-Man lo slittano al 6 novembre 2026 andando più o meno a fare il stesso gioco che hanno fatto con Way Home che comunque l'uscita intorno al periodo di Natalizio gli aveva dato ragione e poi potrebbero dividere Secret Wars in due parti e ambientare tutti i film tra le due parti a Battleworld perché così effettivamente avrebbe senso, perché con Secret Wars Destino inizia a creare, appunto, Battleworld inizia a creare questo universo quindi in mezzo tra le due parti vediamo quello che succede su Battleworld, Planet Hulk, TORS, Civil War, questo qua scritto da Soul ma poi c'è il guanto dell'infinito, ci sono un sacco di storie, peccato che i volumi così panini non li ha fatti di tutte perché sarebbe figo recuperarle tutte quanti, magari faranno un mega Omnibus con tutte e anche le altre storie ambientate a Battleworld e quindi mettere due film per ora elencati, 23 luglio 2027 e 5 novembre 2027 come due film stand alone ambientati a Battleworld che così avrebbe effettivamente senso continua comunque a puzzarmi il fatto che tra Doomsday e Secret Wars ci sia solamente una pellicola però se dovessero andare a splittare Secret Wars, secondo me così potrebbe starci non so per quale motivo hanno tolto lo slot del 23 luglio e a questo punto bisognerebbe capire anche Blade se viene posticipato a direttamente dopo Secret Wars perché secondo me farlo uscire tra Doomsday e Secret Wars avrebbe anche poco senso e anche poco appeal per quel che mi riguarda più che altro c'è il rischio che faccia alla fine di Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel che se vi ricordate erano usciti a cavallo tra Infinity War e Endgame la gente si aspettava conseguenze in base a quanto è successo nel finale di Infinity War poi Ant-Man and the Wasp era inventato un pochino prima del finale di Infinity War se andava a collegare con la post-credit Captain Marvel era inventato nel passato se andava poi a collegare con Endgame ma la gente si aspettava chissà cosa, aspettative altissime ed era rimasta molto delusa secondo me andare a posizionare un film che di fatto sarà stand alone Blade per quanto riguarda la macro trama tra Doomsday e Secret Wars o addirittura tra Secret Wars parte 1 e parte 2 avrebbe poco senso quindi è probabile che venga addirittura magari spostato al 2028 in base a quando decideranno di far uscire eventualmente se dovessero splitare Secret Wars parte 2 quindi secondo me questa è un'idea abbastanza fattibile che potrebbe coincidere con le date fermo restando come vi dicevo che manca una data del 13 febbraio e il fatto che abbiano cancellato questa di luglio un po' mi puzza perché comunque loro a luglio è un periodo buono hanno fatto uscire Deadpool e Wolverine per esempio ora che ha fatto una valanga di incassi è stato un grande successo quindi non lo so chissà se al D23 appunto ci daranno aggiornamenti a riguardo oppure a questo punto mi sa che ci ritroviamo direttamente a novembre al D23 brasiliano che quella potrebbe essere un'altra occasione data che è un distaccamento del D23 classico in Brasile ma sarà comunque una fiera interamente dedicata al mondo Disney, Marvel, Star Wars, Pixar eccetera il New York Comic Con la vedo difficile perché da quel che mi ricordo io non hanno anche lì mai fatto grossi annunci e poi come vi dicevo prima effettivamente San Diego 2025 sarebbe troppo troppo ridosso con per esempio Doctor Strange con l'uscita di febbraio già per me sono stretti per quanto riguarda Fantastic Four che hanno presentato il cast e iniziano le riprese a luglio 2024 con l'uscita del 2025 vorrebbe dire che arrivano a luglio 2025 con un film in uscita febbraio di cui teoricamente non hanno ancora annunciato niente in maniera ufficiale mi pare parecchio strano comunque questi erano aggiornamenti per quanto riguarda le date fatemi sapere cosa ne pensate voi mi raccomando con un commentino qui sotto quale idea di calendario vi interessa di più secondo voi invece quali saranno i film che decideranno di far uscire nelle date per ora indicate e soprattutto se vi interessa e vi piace l'idea di pellicole ambientate su Battleworld quindi ragazzi spero che questo video sia piaciuto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao